Non una abolizione di ciò che esiste, ma un rimescolamento di competenze tra gli enti locali. Di questo si tratta se il disegno di legge di abolire le nuove province siciliane, approvato ieri sera dal governo regionale del presidente Crocetta, otterrà il sì anche dall'Assemblea regionale. Potrebbe essere una innovazione a livello nazionale. Sulla riforma c'è una condivisione di massima da parte dei partiti di maggioranza. Le province verranno sostituite dai liberi consorsi di comuni previsti dallo Statuto, che avranno funzioni e competenze diverse rispetto alle attuali province, a partire dalla competenza sui rifiuti, sulle acque e sull'edilizia popolare. Un quadro nuovo che porterà alla fine dell'era degli ato idrisi e degli ato rifiuti. Con la riforma, proprio come il PD ha sempre sostenuto, ci sarà un abbattimento reale dell'apparato pubblico, con l'eliminazione di duplicazioni di spesa, sottolinea il capogruppo dei democratici Baldo Gucciardi. I risparmi arriveranno dalla cancellazione dei consigli d'amministrazione e dei collegi sindacali degli ato e degli altri clienti sostituiti dai consorsi. Un altro risparmio sensibile arriverà dalle cariche elettive, che saranno sostituite. In pratica saranno i sindaci dei comuni e del consorzio a eleggere tra loro il presidente del consorzio stesso, mentre i consigli comunali eleggeranno il consiglio, che sarà comunque meno numeroso degli attuali consigli provinciali. Non ci saranno indennità, ma solo rimborsi per consiglieri e presidenti. Inoltre, la riforma, se da una parte assegnerà competenze nuove agli enti che prenderanno il posto delle province, dall'altra potrebbe decentrare ai comuni alcune competenze attualmente in carico alle province, come l'edilizia scolastica. Il disegno di legge di riforma conterrà anche il congelamento delle elezioni provinciali di maggio. Sotto il profilo politico, la riforma avvicina la maggioranza di centrosinistra al Movimento 5 Stelle, che aveva caldeggiato questo tipo di intervento. Sul versante economico, la maggioranza ha dato il proprio sostegno alle emissioni dei trinacri a bond da parte dell'IRFIS, che faranno crescere la disponibilità finanziaria di cassa della regione con effetti immediati. Previsto anche un fondo per contrastare la povertà. Consentirà ai nuclei familiari di avere un reddito anno di 5.000 euro. Le risorse, in questo caso, saranno trovate dall'abolizione delle province, mentre i bond targati Sicilia saranno costituiti da una parte del patrimonio immobiliare regionale. Non passa per un solo voto l'abolizione dell'Unione dei Comuni tra Montalepre e Borgetto, proposta dalla minoranza in Consiglio Comunale. Nella seduta ieri sera era richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi per approvare la mozione, ma i voti si sono fermati a nove, quelli del gruppo Noi con voi e degli indipendenti Sgroi, Plano e Di Noto. Il gruppo di maggioranza invece sostiene la opportunità di mantenere in vita l'Unione, alla luce dell'orientamento del Governo regionale, di promuovere i consorsi tra comuni che sostituiranno le province nel caso in cui saranno abolite. Fra l'altro, dice il Presidente del Consiglio Comunale, Giancarlo Randazzo, attualmente l'ente sovracomunale non costa nulla alle casse dei due paesi perché gli amministratori e i consiglieri già da oltre un anno hanno rinunciato alle indennità di carica. È più opportuno quindi aspettare eventuali novità legislative, una posizione che naturalmente non convince le opposizioni. La volontà di abolire l'Unione, precisa all'indipendente Maurizio Sgroi, deriva dai pochi risultati ottenuti in tutti questi anni e dall'elevato costo di gestione. Il 40% dei trasferimenti sono destinati infatti solo alle indennità e alle spese amministrative. Dalla seduta di ieri sera, inoltre, è emersa ancora una volta come il Sindaco non abbia più una maggioranza. Il Consiglio Comunale tornerà a votare sull'abolizione dell'Unione dei Comuni nelle prossime due sedute e in questo caso basterà la maggioranza assoluta dei presenti. Nella riunione di ieri sera si è discusso anche di un problema che coinvolge gli anziani di Montelepre. Alcune settimane infatti non hanno più un luogo dove potersi riunire dopo il mancato rinnovo del contratto di locazione con i proprietari della vecchia sede. L'opposizione e i tre consiglieri indipendenti hanno proposto di utilizzare il locale al pian terreno del centro sociale nel corso Castrense di Bella. Saranno i tecnici comunali, chiarisce il Presidente del Consiglio Randazzo, a verificare se quelle stanze che attualmente ospitano l'anagrafe e l'ufficio elettorale sono compatibili con un centro ludico per anziani. In alternativa il Sindaco, Giacomo Tinervia, propone di utilizzare i locali al piano terra della Torre Ventimiglia. Crolla l'intonaco dal tetto di un'aula e il Sindaco dispone la chiusura temporanea del plesso. È accaduto ieri a Balestrate, alla scuola elementare Principe di Napoli, di Via Vittorio Emanuele Orlando. Per fortuna non ci sono stati feriti né tra i piccoli alunni, né tra il personale docente, perché il distacco di calcinacce è avvenuto durante la notte o nel pomeriggio e ha interessato una piccola porzione del soffitto di un'aula al pian terreno dell'edificio. Ad accorgersi dell'accaduto, ieri mattina sono stati bidelli all'apertura della scuola. I danni non sono ingenti e gli operai sono già al lavoro per mettere in sicurezza l'aula. Nel giro di qualche giorno, assicura il Sindaco Salvatore Milazzo, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Intanto la direzione didattica ha deciso di ricorrere ai doppi turni. Gli alunni continueranno a seguire le lezioni nel plesso di Via Gesù Grande, fino a quando non saranno ultimati i lavori. Il primo cittadino, per motivi precauzionali, ha disposto inoltre un sopralluogo dei tecnici del Comune in tutti gli altri edifici scolastici del Paese per controllare le generali condizioni di sicurezza. La verifica fatta in mattinata ha escluso comunque eventuali altri potenziali pericoli. Al momento non è chiaro cosa abbia potuto provocare il crollo dell'intonaco nell'aula della scuola elementare, anche perché non sono state trovate tracce di infiltrazioni d'acqua. Si divide il Consiglio Comunale di Monreale in vista della seduta che dovrà dare il verdetto dopo la presentazione della mozione di sfiducia al sindaco Filippo Di Matteo, firmata da 12 consiglieri comunali. Si dichiarano stupiti altri 13 consiglieri comunali di fronte alla presentazione della mozione. In una nota parlano di demagogia politica, ribadiscono la fiducia di Matteo, condividendone il percorso politico avviato in una fase di squilibrio finanziario del Comune. Noi consiglieri che da vicino seguiamo il lavoro degli assessori e del sindaco, scrivono oggi nel documento di sostegno, testimoniamo l'onestà, il rigore e l'altruismo che profondono quotidianamente e siamo consapevoli dello sforzo che l'ultima manovra economica ha richiesto. Con impegno, serietà, senso di responsabilità, assumendosi l'onere di provvedimenti impopolari, questa amministrazione ha avuto il coraggio di proporre una soluzione, forse l'unica possibile per poter almeno pensare alla rinascita della nostra città. Le difficoltà economiche del Comune di Monreale, prosegue la nota dei consiglieri che sono contrari alla fiducia al sindaco, hanno radici profonde e gli amministratori di oggi sono costretti ad adottare provvedimenti impopolari per poter salvaguardare e garantire i servizi minimi. L'azione proposta in Consiglio Comunale del 22 febbraio rientra tra questi, ma è una programmazione seria, puntuale e di grande respiro, l'unica in grado di risanare lo squilibrio finanziario esistente e di dare prospettiva alla città. Se i consiglieri dell'opposizione avevano la volontà di sfiduciare il sindaco, conclude la lettera, avrebbero potuto benissimo bocciare il piano di riequilibrio proposto dall'amministrazione. Invece la presenza in aula a garantire il numero legale necessario per poter procedere alla votazione è la prova che quell'atto era indispensabile alla città di Monreale. Oggi qualche consigliere comunale, pensando che il Comune è stato posto in condizioni di poter camminare da solo, tenta di sfiduciare il sindaco e raccoglie i frutti di un lavoro ingrato e impopolare che dura da diversi anni. Continuano i controlli sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Termini Merese, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e inerenti l'uso di sostanze stupefacenti. I predetti controlli sono stati svolti non solo nel territorio dei Comuni di Termini Merese, tra B e Caccamo, ma anche nei Paesi delle Madonie, dove del resto è aumentato l'uso di sostanze stupefacenti tra i giovani che nel corso dei weekend si recano a Palermo a rifornirsi della sostanza. Infatti, lungo la strada statale 121, i militari della stazione di Caltavoturo hanno posto in essere diversi posti di controllo, al fine di contrastare le violazioni al codice della strada e non solo, tanto che hanno tratto in arresto un giovane 23enne SD disoccupato di Vallelunga Pratameno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo Ascish. SD veniva condannata a 8 mesi di reclusione, pena sospesa e rimesso in libertà, oltre a pagare 2.000 euro di multa. La sostanza stupefacente recuperata è stata sottoposta a sequestro per essere inviata presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo, al fine di accertare l'esatto principio attivo e la campionatura della stessa. Il Ministero dell'Istruzione dovrà pagare circa 7.400 euro a titolo di risarcimento alla famiglia di una ragazzina che frequentava la scuola media Antonio Veneziano di Monreale. Lo ha stabilito la terza sezione civile del Tribunale di Palermo. I fatti risalgono al 24 gennaio del 2007, quando all'interno dei locali scolastici una studentessa che a quel tempo frequentava la scuola media durante l'orario di lezione si ruppe un polso. L'episodio si verificò durante l'orario scolastico. Secondo la ricostruzione dell'incidente fatto in aula, la ragazzina si trovava all'interno della propria classe, in pieno svolgimento delle attività didattiche e nel ritornare al proprio banco, inciampò nel sostegno della lavagna cadendo rovinosamente a terra. La Carige, compagnia che assicurava l'istituto, non ha mai voluto risarcire il danno, nonostante le richieste del legale dei genitori della ragazza. Con questa sentenza in pratica, il Tribunale ha riconosciuto il principio della responsabilità oggettiva dal momento che i fatti sono accaduti all'interno del locale scolastico. Oggi, afferma l'avvocato Francesco Pepe, legale della famiglia della studentessa, dopo anni di causa, giustizia è stata fatta ed il Ministero dell'Istruzione è stato condannato al pagamento di una congrua somma di denaro. Proseguono i controlli notturni della Polizia Municipale presso i locali della Movida per verificare la regolarità amministrativa e delle attività svolte. Gli agenti della sezione di Polizia Amministrativa hanno compiuto i sopralluoghi in diverse zone della città, rilevando e sanzionando diverse occupazioni abusive di suolo pubblico, con tavoli, sedi e gazebo, mancanza di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e alla conduzione di locali per intrattenimenti musicali. In un pub panineria di Piazza Niscemi è stata riscontrata l'occupazione abusiva di circa 80 metri quadri di suolo pubblico con un gazebo utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande con l'area abusivamente delimitata da fioriere. Il gazebo è stato sequestrato ed il titolare ha ricevuto una sanzione di 168 euro con denuncia all'autorità giudiziaria. Non aveva invece l'agibilità richiesta per i locali da ballo una discoteca di Viale Olimpo, riscontrata inoltre priva delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza. All'interno del locale inoltre non era fatto rispettare il divieto di fumare nei locali pubblici ed è quindi scattata una multa per il titolare. In via Novara, all'interno di una villa privata, gli agenti della Polizia Municipale hanno riscontrato lo svolgimento di attività di intrattenimento con diffusione di musica e la somministrazione di alimenti e bevande, il tutto senza le prescritte autorizzazioni. Il titolare ha ricevuto una sanzione di 5.000 euro. In via Resuttana e via Bottai sono state riscontrate alcune occupazioni abusive del solo pubblico o l'eccedenza dell'area occupata rispetto a quello per cui è stata richiesta l'autorizzazione. Altri controlli sono stati effettuati in via Velequazze e un circolo privato di Pertanna-Mondello dove sono emerse delle irregolarità nella tipologia di conduzione di piccolo intrattenimento per il quale sono state effettuate sanzioni per occupazione di suolo pubblico e mancanza di autorizzazioni. Questi controlli, ha affermato il comandante Vincenzo Messina, hanno la finalità di garantire ai cittadini la sicurezza e la qualità delle attività commerciali, in particolare quelle legate alla ristorazione per cui la sicurezza alimentare è di fondamentale importanza. Accanto alla tutela dei consumatori, è invece affermato il sindaco, è fondamentale difendere gli operatori commerciali che operano nel rispetto della legge e della concorrenza sleale svolta da coloro che invece agiscono senza le previste autorizzazioni. I carabinieri del nucleo investigativo hanno tratto in arresto su richiesta internazionale di arresto provvisorio ai fini estranazionali da parte dell'Interpol di Washington Tarrant Robert Wade, nato a Dallas, classe 1971, ivi il residente in quanto colpito da due mandati di arresto per i reati di truffa. La legge americana per il reato di truffa prevede una pena massima di anni 15 di detenzione. L'uomo è accusato di aver ideato ed eseguito un raggiro per truffare degli investigatori, facendoli investire nella sua società con la falsa promessa di poter ottenere un interesse annuale pari al 24%. Avuto il denaro, il Tarrant se ne è appropriato, restituendone solo una parte agli interessati. Grazie alla cooperazione internazionale di polizia, l'Interpol, l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale, attraverso le sue sedi, con lo scambio dei dati inseriti e continuamente aggiornati nella banca dati, ha dato notizia della presenza dell'uomo a Palermo, dove peraltro aveva deciso di prendere in locazione un appartamento in zona centro. Il Tarrant è stato poi tradotto presso il carcere Ucciardone, a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli addempimenti del caso. Un atto di terrorismo mafioso, un omicidio per fare capire alla gente che cosa nostra è ancora in grado di farsi carico delle stanze del territorio. Il delitto di Francesco Nangano, assassinato nel cuore del rione Brancaccio, è stato un gesto eclatante di propaganda mafiosa. Ne sono convinti gli investigatori. La vittima non era ben voluta, c'erano forti segnali di intolleranza per il suo modo di fare, ostentato e arrogante, e il suo comportamento infastidiva non solo ai mafiosi, ma anche alla gente comune. Le voci raccolte nel quartiere riferiscono di piccoli screzzi quotidiani, di qualche parola di troppo e di complimenti fuori luogo rivolte a una donna che potrebbero essere arrivate alle orecchie di chi comanda, che eliminando Nangano avrebbe raggiunto un triplice obiettivo, togliere di mezzo un personaggio che scalpitava negli ambienti criminali, sbarazzarsi di un uomo in viso a tanti e lanciare un messaggio di forza, a pagare, e non solo, chi si mette contro chi comanda, ma pure chi rompe gli equilibri e crea malumori nel quartiere. Da qui la scelta di ucciderlo alle otto di sera, quando via Messina Marina è piena di gente. La mafia a Brancaccio sta giocando una partita psicologica, ed è proprio nella zona che infatti i servizi segreti un anno e mezzo fa avevano raccolto la notizia che Nangano era irrotta con i vertici del clan. Adesso gli investigatori sono al lavoro per scoprire se si sia trattato di una magraba coincidenza oppure se la sua condanna a morte fosse scritta da tempo. La fonte confidenziale parlava di contrasti con Nino Sacco in carcere da un anno e mezzo. Nonostante due assoluzioni dalle accuse di mafia e omicidio, Nangano si muoveva negli ambienti della criminalità organizzata, scalpitava, credeva di potersi fare largo contando su una grande disponibilità economica. Alcuni anni fa lo Stato lo risarci con 270.000 euro per un lungo periodo di ingiusta indetenzione. Soldi che però non giustificherebbero il tenore di vita mantenuto dalla vittima negli ultimi tempi. Nangano aveva sempre una banconota da 500 euro da sventolare sotto il naso del tabaccaio o del macellaio. Troppi soldi per un piccolo commerciante di auto. Ecco perché i pubblici ministeri Francesco Mazzocca, Caterina Malagole e Gaetano Paci, coordinati dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci, stanno cercando di ricostruire gli interessi economici di Nangano che potrebbero avere fatto il ricorso a una rete di prestanome per occultare il suo patrimonio. L'amministrazione Bonventre risponde all'interrogazione dei consiglieri in merito alla gestione dello stadio comunale Lelio Catella. L'amministrazione di Alcamo ritiene che le principali motivazioni per cui ha proceduto al rinnovo della convenzione sono le seguenti. L'impianto sportivo è sempre stato mantenuto pulito ed il manto erboso in ottimo stato di vegetazione. La fruizione dell'impianto sia da parte della stessa squadra dell'ASD ad Alcamo che da parte della cittadinanza e delle realtà associative sportive che frequentano abitualmente lo stadio è più funzionale alle loro esigenze in considerazione dell'avvenuto aumento degli orari di apertura e chiusura dell'impianto. L'incertezza sulla disponibilità del personale precario in servizio presso questo ente dal 1 febbraio 2013 cui eventualmente affidare servizio oggetto della convenzione. A tal fine la legge sul personale precario in utilizzo agli enti e la copertura finanziaria è stata discussa in aula all'Assemblea regionale solo il 28-12 del 2012. Per quanto riguarda l'aspetto contabile invece si può affermare che per quanto riguarda il 2012 il costo a carico dell'ente è stato di 60.500 euro mentre in passato si spendevano circa 36.000 euro solo per la manutenzione del manto erboso e 1.500 euro circa di materiale di pulizia. Inoltre si legge ancora se si considera che il personale che prima era in servizio allo stadio con la manzione di custode è stato impiegato in interventi di piccola manutenzione del patrimonio comunale e di cura del verde pubblico con notevole risparmio per l'ente in quanto per tali lavori sarebbero state impegnate considerevoli risorse con appalti e ditte esterne. Alla luce di quanto sopradetto e contrariamente a quanto sostenuto nell'interrogazione appare evidente il vantaggio economico per l'ente della delibera e della sottostante convenzione con l'ASD di Alcamo. La proroga di mesi 5 si è resa altresì necessaria al fine di verificare la possibilità di programmare la gestione dello stadio comunale con il personale interno e decorre dal 21.06 senza conseguenze negative per la migliore fruizione dell'impianto sportivo fino a oggi ben gestito dall'ASD di Alcamo. Paura sul treno regionale 8.838 in servizio da Palermo Centrale a Termini Penese. Il convoio è stato bersaglio di una sassaiola nei pressi di Brancaccio. Una grossa pietra in particolare ha mandato in frantumi il vetro di un finestrino in prossimità del posto sul quale sedeva una ragazza che è stata colpita dai vetri. Non zumbendo però gravi conseguenze ma solo lievi ferite. La circostanza è confermata dalla polizia e arriva la denuncia di Giacomo Fazio Presidente Comitato Pendolare Sicilia. È un fatto gravissimo che non sembra rappresentare un caso isolato. Chiediamo un pronto intervento delle autorità competenti. Un automobilista di 80 anni ha perso la vita in un incidente sulla Palermo Agrigento schiantandosi contro il guardarreil tra Bolognette e Misilmeri. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Il nome della vittima è Damiano Bonelli. Secondo una prima ricostruzione pare che abbia perso da solo il controllo della vettura sulla quale viaggiava. Dall'ANAS fanno sapere che il tratto di strada è stata momentaneamente chiuso al traffico. Momenti di terrore per l'avvocato penalista Giuseppe Seminara che è stato rapinato da due uomini che gli hanno puntato la pistola in via Salvatore Cannarozzo a Palermo. Dalle parti di via Belgio la vittima è stata costretta a consegnare il portafogli con 100 euro. Il penalista era appena sceso dalla sua Mercedes quando è stato affrontato da due uomini con il volto coperto da sciarpe che gli hanno puntato contro una pistola automatica. I due poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. Indaga la polizia. Un esercito di Neturbini sotto accusa per interruzione di pubblico servizio. In 119 hanno appena ricevuto l'avviso di proroga delle indagini sull'emergenza rifiuti che l'anno scorso mise in ginocchio la città. L'inchiesta partì da una relazione della Digos che nel marzo scorso identificò anche gli autori dei picchettaggi che secondo l'ipotesi della procura bloccarono la raccolta della spazzatura. Saltarono i turni degli autocompattatori e le strade furono invase dai rifiuti. Oltre all'interruzione di pubblico servizio al vaglio dei pubblici ministeri coordinati dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci c'è la possibile violazione del contratto di servizi tra l'AMIA e il Comune e c'è un separato capitolo delle indagini che punta a smascherare eventuali reati di violenza privata che qualcuno potrebbe avere commesso impedendo aere e turbini di svolgere il turno di lavoro. Solo un negozio su 10 irregola a Palermo e provincia è quanto emerge dai controlli della Guardia di Finanza realizzati nel corso del 2012. Su 7.333 controlli sono state riscontrate 3.280 irregolarità ovvero il 44,73% rispetto al 24,23% dello scorso anno. Le fiamme gialle parlano di fortino dell'illegalità soprattutto nel caso degli ambulanti nei confronti dei quali sono state trovate irregolarità nel 91% dei casi in particolare riscontrata la mancata emissione dello scontrino. Il gruppo di Palermo Pier Giorgio Morosini che celebra l'udienza preliminare sulla trattativa Stato-mafia ha sospeso il procedimento a carico del boss Bernardo Provenzano per momentanea incapacità dell'imputato. La decisione non comporta lo stop definitivo del procedimento che è stato rinviato al 16 aprile data in cui potrebbe essere disposta una nuova perizia sulla capacità mentale del capo mafia. Già nelle scorse settimane il giudice sulla base della valutazione di due periti che avevano messo in dubbio la capacità di Provenzano di partecipare al processo aveva stralciato la sua posizione da quella degli altri imputati per i quali l'udienza preliminare nel frattempo è proseguita e si concluderà giovedì prossimo alla luce di accertamenti tecnici che parlano di un peggioramento delle condizioni del boss il GUP ha stabilito la nuova sospensione. I carabinieri hanno fermato Lorenzo Poma sospettato di gestire una piccola piazza di spaccio nella zona di Castellammare del Golfo una segnalazione aveva messo in allerta i carabinieri della compagnia di Alcamo informati di un'attività di spaccio tra Custonaci e Castellammare il sospettato 54enne di Custonaci è stato pedinato ed infine fermato in flagranza con addosso 10 grammi di cocaina la perquisizione domiciliare ha poi permesso di ritrovare attrezzature per il taglio e il confezionamento della droga la sostanza è stata sottoposta a sequestro mentre Lorenzo Poma è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è trasferito al carcere San Giuliano di Trapani di Trapani